Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft School Jailbreak Oggi andremo a fare una cosa molto interessante Saliremo di piano e andremo a vedere cosa c'è sopra ragazzi E si avete capito bene Ma prima di tutto andiamo ad aprire ben 10 reward key ragazzi Vai Quindi opening chest di quelli fatti come Cristo comanda Dammi gemme dai, gemme, gemme No libro, libro, libro fanno cacca di solito al comune Non puoi vedere, è epic Ah, vabbè dai, due epic Due libri epic Se può pure fa Non li sto aprendo più ragazzi perché non mi serve nulla di epico Effettivamente ormai il piccone OP Che cos'è? No, i firecracker, no, te prego, vai Dai, mi devo uscire roba seria Magari delle belle gemmine in più che facciamo ancora un altro bel upgrade Dimmi 250 225, vaffaculo Dai La potremmo fa, la potremmo fa Roba seria, roba seria Che cos'è? Un foglio? Che co... Che co... Scratch card Che cosa mi hai dato scratch card? Non sapere io tu cosa dare a me Lo sto scratchando la card E quindi? Ok, molto gentile Non mi hai dato niente Vai Forse ce ne servono tre Ok, vai Gemmine? No, dai Era passato sulle gemmi Che mi è uscito? Quante... Cosa? Dov'era? Firecracker e granate Porca zuzza Niente È una bella nuke di quelle grosse Non capita mai, eh È un po' Gemmine 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 No, libro no Libro no Libro no Non voglio i libri Non voglio i libri Specialmente quando sono comuni Oh, dai Gemme 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 Oh Dammi tante gemme Le cinqu... Cinquanta Le consumo con un attimo Cinquanta Dai, un po' di più Tante gemme no Libro no Libro no Non lo voglio Qua Mysterious common Poi mi escono comuni È quello che mi fa rude Mi fa veramente rude No, dai Non ci credo È andato in stack No De mine nuker Questo me lo posso ottenere da parte O vendere veramente a tanti ragazzi Finalmente qualcosa di buono Da qua dentro Vai L'ultima L'ultima chiave Questo me lo tengo da parte Assolutamente Ci possiamo fare tanti soldini Per salire molto prima Ok Gemme Quante gemme mi dai? Cinquanta Va bene Va bene Arriviamo a trecentonove Allora Quello che c'è oggi al gemm shop È abbastanza scarso Torn due Efficienze cinquanta Potrebbe essere utile Drain 4 Eevee white Quindi pesante L'altra rubina è abbastanza schifo Le cicle ce ne abbiamo una valanga Ok Allora Vi faccio vedere un paio di cose Prima faccio un bel giretto alla home Vedete tutti questi libri che io ho Mi sono messi in postale in questa maniera Ho gli shop Con tutti i nostri libricini In questo caso Qui si vendono i rare I common si vendono in qui Quindi io vi vendo questa bella rubina Ditemi se la mine nuke A quanto la posso mettere Magari qua sotto nei commenti Allora Qui dentro ci dovrebbe stare il mythical Ma non c'è Perché l'hanno comprato E qui ci vanno i rare Noi epic Gli epic vanno di qua Vediamo un po' quanti epic hanno comprato Tutti Non c'era più un epic qua dentro GG Ho venduto tutti gli epic ragazzi Allora Allora Adesso noi andremo a vedere una bella cosa Intanto sta robina Anzi sta bella nuke Me la metto immediatamente Da parte Non vorrei perdermela Ok Faccio una bella cosa Spawn E andiamo finalmente a fare il nostro rank up Rank Perché io ho farmato off camera Ben 2 bilioni Di dollari in gioco Quindi GG Vai S E si sale di piano Mordog Has just graduated from the science school Siamo passati al piano superiore Farmer housing Stock reset Ok Gem shop action E qui è tutto uguale Come sempre Qui c'è la nostra zona Qui c'è il nostro teleporter Che si riaprirà quando lo utilizzeremo Enchanting table Varie Lo shop dov'è Questo è lo shop Ok C'è tanta robina Forse c'è anche roba nuova in vendita E da vedere bene Sembra molto più pieno dell'altro E c'è anche il cibo Di nuovo l'hanno messo Alleluia Così almeno ce lo compriamo Non dobbiamo fare tutti gli impicci delle farm Allora Allora Mi è rimasto 1.033 Io farei una bella esplorazione Andrei a vedere Anzi andiamo a vedere immediatamente La nostra nuova miniera Che è il rank S Che è la classe di football Quindi di calcio No di football proprio Wow Guardate c'è il campetto di football Per allenarsi anche GG Allora Fest to fight Qui c'è gente Non so perché ci stanno queste rampette Ah perché la gente ormai picca In questa maniera Da stiparsi Guardate Cioè ma che roba È molto più larga Ok Vediamo un po' Cosa si può trovare da stiparsi La solita roba Mi sembra Niente di più Niente di meno Bisogna vedere più o meno Più che altro Quanto Ci pagano Per farvi capire Per una run Di quelle randomiche Tipo così Proprio fatte a casaccio C'è gente con ste uova Che mi fa la gara random Vai 8 milioni e 24 Leggermente di più Mi sembra 2 milioni in più Ragazzi Con una farm Una farmata di quelle Scandalose Proprio leggere leggere Non posso andare là Perché quella è un altro rank Va bene L'abbiamo capito Vado a vedere se c'è qualche quest Giusto per vedere come sono Un tizio che ci dà le quest L'ho trovato Ho fatto un bel giretto Per trovarlo Forse ce ne stanno Veramente pochi qua sopra Marshmone Link Cosa ci dice Voglio vedere intanto Le nostre quest Allora Best mod Kill 10 player Questa è tosta Questa bisognebbe andare A fare pvp E questa invece Water boy 10 water battle Non è difficile Fare le water battle Sinceramente Dovrei fare dei vetri Con della sabbia Oppure andare a prendere Direttamente le bottigliette E metterci dell'acqua E ci darebbe Non so quanta robina Vediamo un po' Visto che l'ho accettato Ok Quanta ne vuole Abbiamo detto 10 Ce ne da 20 gemme Va bene Vado a prendere Le bottigliette d'acqua Ok ragazzi Qui alla shop C'è del vetro Quindi non mi dovrebbe Essere difficile Craftarmi a random Delle bottigliette E tornare alla mia casetta Così da poter fare Un pochino Di bottigliette D'acqua Non fate poche Per quale motivo Ok Ce ne ho 48 Dovrei starci Ne devo fare 10 Quindi a voglia te E vado a casa Che vado a prenderli Dalla mia farm Scendiamo Giù di qua Andiamo a prendere L'acqua Allora Molto facile 3 6 7 8 9 10 Io me riempio Sti cavoli Al massimo Mi butto Che mi frega Di piano Aumentassero Un pochino Nelle quest Che pensate Perché effettivamente Se l'ho arrivato Qua sopra Non posso Prendere 20 gem Come al piano Inferiore Ok ragazzi Qua Nella Zona di farm Quindi Nella zona S Ho trovato Anche questo Piton Manning Che non mi fa vedere La skin Anche lui Due quest Uno è Deflagate E mi dice Piton Manning 64 feeder E 25 letter Quindi Bisognerebbe andare fuori A fare una pulizia Infinita Invece questa seconda Mi dice 88 soul sand Questa è abbastanza facile Quindi la potrei fare Anche adesso La soul sand È abbastanza facile Da scavare Qui ce ne sta una valanga Quindi posso fare così E me ne scavo Una valanga Con la mia paletta Già fatta la quest E quindi abbiamo già 20 gem Randomiche Fatte qua sopra Ok saliamo le scale Mi scusi Piton Lei è molto gentile E mi ha dato Queste bellissime 20 gem A gratis Va bene ragazzi Farò sicuramente Le altre quest In un'altra puntata Perché quelle sono Un pochino più impegnative Abbiamo fatto un piccolo giretto Avete visto questa zona Avete visto il piano nuovo Avete visto che comunque Sono riuscire a fare 2 bilioni fuori Quindi direttamente Fuori dalla registrazione Ragazzi E spero vi sia piaciuta La puntata Lasciate tanti pollicioni Condividete il video Iscrivetevi al canale Se siete nuovi Questa era Titan MC Quindi potete leggere Anche in alto a destra Se non erro TitanMC Punto net Ragazzi Questo è l'ip TitanMC Punto net È un server premium E niente ragazzi Ci vediamo Alla prossima puntata Alla prossima puntata Alla prossima puntata